Erano lì. Lì sono sempre stati. Abituati alla bellezza del mare, delle colline, delle montagne. Ora ci sembrano così lontani. Ci pensi? Era tutto lì. La bellezza portata di mano, il vento tra i capelli, la sabbia che scorre leggera tra le mani, un prato. In fondo, che cos'è? È sentirsi liberi. Ora è un'altra cosa. Cosa succederà? Mi mancano i piccoli rituali, i gesti consueti, i momenti quotidiani che fino a poco fa mi facevano sperare di tirare il freno a mano. A un certo punto, quel freno l'ho tirato. Non per mia volontà. Mi sono fermata. Ho ascoltato. Ho sentito. Ho immaginato. Mi mancano i sorrisi, i gesti lenti delle persone che incontravo. Quel caffè prima di iniziare. E il caffè prima di ripartire. Insieme. Il rumore delle macchine per strada. La fila alla cassa del supermercato. Le persone sui marciapiedi che non si scansano. Ho guardato. Ho cercato. Ho capito. Nulla sarà come prima. Non possiamo farci niente. Ma il cambiamento è luce nuova sulle cose di tutti i giorni. È una nuova possibilità. È un nuovo inizio. Ho ascoltato. Ho sentito. Ho immaginato. Ho guardato. Ho cercato. Ho capito. E possiamo ripartire. Ma dobbiamo farlo insieme. Ciò che ogni persona è diventata era in realtà il suo vero modo di essere. Era in realtà il suo vero modo di essere.